Si lavorava sotto la presidenza di Tiran Selmi e si lavorava in divisi in commissioni o in gruppi di lavoro. Poi la presidenza di Tiran Selmi affidava a ciascuno di noi dei lavori particolari che impegnavano ovviamente e a cui noi davamo adempimento nel migliore dei modi e nel più breve dei tempi possibili. Tiran Selmi era una donna straordinaria, aveva una capacità di lavoro eccezionale e soprattutto era una donna decisa e determinata. Quando voleva raggiungere un risultato nessuno riusciva, arrivava delle volte al limite del brinkmanship come possiamo dire, ma senza superarlo ma la sua determinazione, la sua forza, il suo coraggio in genere avevano la meglio sugli opinioni contrastanti.